Allora ragazzi Oggi è un giorno particolare perché ieri notte purtroppo è morto Otsuka Otsuka è stato un grande nome dell'animazione giapponese Il sensei di Miyazaki e Takahata peraltro Per dire così due nomi a caso La mente dietro a tantissimi progetti che hanno rivoluzionato l'animazione giapponese Allora innanzitutto intanto che aspettiamo caverna Come hai preso la notizia di questa scomparsa A parte che era molto anziano Sì aveva la sua età e infatti ha anche superato in termini di vita un suo allievo Takahata Diciamo che l'ho presa proprio in questo senso qui perché sta finendo un'era Tante persone che avevano caratterizzato comunque gli inizi dell'animazione Stanno scomparendo Lui aveva 90 anni Quindi insomma era abbastanza anziano C'è da dire questo Noi siamo qui anche Si non lavorava poi da un sacco di tempo Chissà magari aveva problemi di salute oppure era semplicemente stanco e anziano Non è che tutti i giapponesi devono per forza lavorare fino all'ultimo respiro Ecco c'è questa concezione ma non è anche per colpa di Miyazaki e Takahata Un suo allievo lo fa Esatto esattamente Però allora chi è innanzitutto per dare un'infarinatura Chi è Yasuo Otsuka? Perché molti non lo sanno Otsuka è un animatore probabilmente uno degli animatori più importanti della storia di animazione giapponese Che ha influenzato buona parte degli anni 50, 60 e 70 Sia a livello cinematografico che televisivo E soprattutto bisogna anche considerare che lui non è che volesse fargli l'animatore Lui voleva fare il vignettista satirico E' vero E racconta infatti in un documentario su di lui Che mi sembra si chiami Yasuo Otsuka Joy of Motion Una cosa del genere Che praticamente lui da bambino vide una locomotiva Venne affascinato così tanto da disegnarla E si appassionò poi al disegno Questa roba qua è un... Io ci ho sempre trovato un parallelismo con Takahata Che lui ha avuto due robe che l'hanno sconvolto E che poi l'hanno portato a sviluppare una particolare poetica all'interno dei propri film Che uno è il bombardamento della sua città natale E poi il film francese che è Le Roi E vabbè non lo pronuncerò mai bene Aspetto Caverna Per la pronuncia francese che lui è quello che sa il francese Ecco quello l'ha sconvolto particolarmente E vabbè comunque il bombardamento è quello che gli ha flashato per sempre Che poi l'ha portato appunto a costruire la sua poetica Ricordiamo il capolavoro assoluto di Takahata Una tomba per le lucere Che è proprio... Cioè è figlio della sua esperienza da bambino Quindi sì c'hanno tutti questo flash Questo... Come se... Come se fosse proprio una benedizione Una folgorazione fantastico Prego prego comunque Italo Scusa che ti ho interrotto Sì poi ci sono anche altri collegamenti Giustamente la Toei anzitutto Perché lui inizia a lavorare Mi sembra nel 57 O comunque alla fine degli anni 50 Aveva più o meno 25-26 anni Alla Toei Vede un annuncio su un quotidiano Sull'Oium Yuli Shimbun E decide di provare Perché all'epoca comunque non è che ci fosse bisogno di competenze davvero specifiche Perché l'animazione è una cosa ancora abbastanza embrionale E non c'erano corsi specifici per diventare animatori Quindi lui inizia sotto là l'Aliya Shijimori Anche lui E di Sanae Nakayama Mi pare si chiamasse Che era un regista abbastanza famoso agli inizi dell'animazione giapponese E matura Un senso di animazione molto concentrato sul movimento e sul dinamismo Se volete vedere qualcosa dell'inizio Ci sono tutti i vari film appunto della Toei I grandi classici che adesso Dainit sta riproponendo Grazie a Dio Anche su Vid Che potete recuperare Vi ho fatto un'idea appunto dell'opera di Otsuka Soprattutto in Sarutobi Una cosa del genere In Italia c'ha un nome tipo il ninja, ballerino Cose classiche Un'altra cosa secondo me molto figa di Otsuka Che lui è testimone diretto di un periodo Molto particolare in Giappone Che raramente si vede oggi Figuriamoci a metà degli anni 60 Che è la protesta sindacale a cui partecipa anche Miyazaki e Takata E ragazzi per far scappare proprio tutti gli spettatori possibili Sappiate che in quegli anni in Giappone c'era una forte protesta A parte gli animatori Perché gli animatori erano praticamente schiavi Erano schiavizzati dalla Toei E si pisciavano addosso Addirittura si succedeva qualsiasi cosa All'interno di quegli studi E a queste proteste sindacali C'erano anche Miyazaki e Takata Ovviamente in maniera diretta Partecipò anche a Otsuka E ci fu proprio Questa rivoluzione qua Non fu solamente una rivoluzione Per quanto riguarda i diritti degli animatori Ma ci fu anche una rivoluzione concettuale Perché ovviamente Più gli animatori respiravano Più gli animatori avevano Diciamo come si può dire Meno si pisciavano addosso Meglio era per la qualità delle opere Più sperimentazioni si aveva Infatti Otsuka fu uno dei primi A capire che l'animazione si poteva Traslare anche su prodotti per adulti E diede poi l'attaccata Per realizzare il primo prodotto Il primo lungometraggio per adulti Che conosciamo Che fu poi un flop clamoroso Che è la grande avventura Il piccolo principe Valiant Lui appunto Come anche gli altri dipendenti Come stavi dicendo tu Erano abbastanza stanchi Comunque dopo decenni Di prodotti diretti principalmente I bambini Che soprattutto poi Mutuavano l'estetica Dal cinema occidentale Prevalentemente Ancora non c'era un segno Davvero distintivo Che verrà poi correlato All'idea di anime Si parlava ancora di un'animazione Abbastanza embeonale Con lato E che cercava un po' Di repicare appunto la Disney Otsuka assieme a Takata e Miyazaki Guidò la protesta Che Takata e Miyazaki Comunque erano molto giovani all'epoca Appartenevano a quella generazione Socialisti di stampo proprio duro E quindi decisero di fondare un sindacato Assieme a questo sindacato Lato E decise di consentirgli Anche la possibilità Come stavi dicendo Di produrre un lungometraggio Secondo le loro volontà E ne venne fuori Ots Ogino dai Boken Mi ricordo il titolo Anche se hanno Hanno combattuto un botto Prima di farsi approvare Quel film lì Poi addirittura non c'era più soldi E anche durante I frame fermi Che si muovevano Per cercare di fare le scene Quelle più comparse Mamma mia Ciao ragazzi Buonasera Buonasera a tutti Si stava parlando Della grande avventura Del piccolo principe Valiant Per darti un po' di contesto Ah Preparatissimo Questo è il capolavoro ragazzi Questa è storia Storia Cosa state dicendo Così mi collego Stavamo parlando Un po' della produzione Che fu molto particolare Comunque Una delle prime produzioni Già abbastanza disastrate Dell'animazione giapponese Perché come diceva Dario Già non era proprio Nelle corde Della Toei Fare una cosa E permetterlo E poi Durante la produzione Comunque i costi Si alzarono un sacco I tempi Come nella tradizione Poi di Takahata Pure quelli Si allungarono A livello simile Il film Da dover Essere prodotto In 12 mesi Mi sembra 11-12 mesi Ci mise due anni Ad uscire E fu un flop clamoroso Fu il film più costoso Della sua generazione Tra l'altro E un flop clamoroso Ma infatti la produzione È veramente costellata Di imprevisti E si vede pure dal film Che ha delle scene Totalmente ferme Cioè non ci sono proprio Più le animazioni A un certo punto Il film si dimentica Di essere animato Però Sì 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 Proprio così Si scorda E ci sono questi Framing incredibili Dove c'è Il sonoro va avanti Il doppiaggio pure Poi i personaggi Non si muovono Particolare però È veramente unico Lì La responsabilità Non era nemmeno Cioè chiaramente I produttori Della Toei Dog La scaricarono Tutta su Otsuka E questo è ovvio E infatti si ritrovò Con lo stipendio Dimezzato Cioè scendeva sempre Mese dopo mese Lo stipendio scendeva E lui dice Bah chissà come mai Scende lo stipendio Perché accadono Queste cose Però è veramente Un film incredibile Voglio fare una domanda Un po' provocatoria Secondo voi Prendiamo uno Degli ultimissimi film Usciti con questo stile Ovvero Mary e il fiore della strega Che possiede Uno stile Profondamente Ghibli Ok Secondo voi Possiamo ringraziare Otsuka Se Oggi è sopravvissuto Quello stile E milioni di fan In tutto il mondo Riconoscono Quello stile Collegando Allo studio Ghibli Oppure È merito di Miyazaki E Takata Che l'hanno saputo Un po' Reinterpretare E modificare Nel tempo O entrambi Per lo stile Per lo stile In realtà Penso più Mori Che Otsuka Anche se Obiettivamente In Miyazaki Vive molto Anche Otsuka Perché Miyazaki Ebbe modo Di sfondare In Samurai Giants Che è una serie Che col cavall design Di Otsuka E gli deve molto Però obiettivamente Takata Miyazaki Devono tanto Che poi dopo Si è ritrovato Ad essere Quello che faceva Le animazioni Per Miyazaki Per Takata Nei loro film Probabilmente Perché ha saputo Anche riconoscere La loro La loro forza La loro genialità E' difficile Che uno Come Otsuka Che nelle interviste Rivelava sempre Un certo Malcontento Nei confronti Dei nuovi animatori Forse un po' Boomer Diciamo Perché diceva Ma i nuovi Non si sudano Niente Non si sudano Il lavoro Perché siamo tutti ricchi E bene o male Lo si fa Tanto per fare L'animatore Ma non c'è Un vero motivo Artistico Per fare gli animatori Come facevamo noi E così diceva Cioè uno Uno così E chiaramente E' rimasto abbagliato Anche dalla forza Di Takata E Miyazaki E ha dato sfogo Così Alla sua arte Attraverso loro Allora Voglio parlare con voi Di qualcosa Di un po' più pop Così da cercare Di incontrare Il grande pubblico Ovvero Parlare Della creatura Più forte La creatura Più iconica A cui Otsuka Diciamo Ha dato i Natali O come non è Che ha dato i Natali Diciamo che L'ha ritratto L'ha raffigurato In una maniera tale Che probabilmente È rimasta Ai nostri cuori Più la versione Di Otsuka Miyazaki Takata E tutti quelli Che ci hanno lavorato Che la versione Del manga originale Che ovviamente Sto parlando Di Lupin Di Lupin Terzo Dato che Otsuka Si è avvicinato A un altro studio E gli è stato commissionato Eccolo lì La TMS Esatto Gli ha commissionato Il pilot Di Lupin Terzo Ovvero Il pilot Di quello Che poi Quella che poi Sarebbe diventata La serie verde Chiamata così Quella con la giacca verde Ok La prima serie Di Lupin Secondo voi Quanto c'è Di Monkey Punch All'interno Della versione Di Otsuka E perché Soprattutto è così Distante Dalla versione Del manga originale Io credo Vabbè All'inizio Sicuramente Masakyo Sumi Che si era occupato Di tutto E aveva preso Otsuka A lavorare Gli ha dato Quell'impronta Originale Di Monkey Punch Perché comunque Guida sempre La Mercedes E ancora Un po' Quel ladro Annoiato Un po' Bohemian No E dice Vabbè Faccio il ladro Tanto per Non per svoltare Ma perché Tra un omicidio E l'altro Si può pure rubare Sostanzialmente Però Si vede Che Che Otsuka Aveva qualcosa Dentro Da raccontare Di più E questo Vabbè Traspare Prima di tutto Da tutto Ciò che È Lupin Da un punto Di vista Tecnico Cioè La Walter P38 Appunto La Mercedes Benz SSK O anche La Renault Alpine Di Fujiko Tutte queste cose Lui le recupera Le utilizza E Le fa diventare Molto vivide C'è Un sodalizio Incredibile Perché comunque Otsuka Conosceva Usumi Dai tempi dei Moomin Che ci hanno Lavorato insieme Su quel cartone Tratto Dai fumetti Finlandesi Dei Moomin Poi dopo Quando purtroppo Ecco Il regista originale Viene silurato Perché Lupin Fa zero ascolti Avevano share Del 6% Che oggi Guarda Vedete che hanno E basta Tipo Sì sì Praticamente Sì ma oggi È oro Quella percentuale Perché oggi Gli anime Fanno 0,2 0,3 Wow è incredibile Se fanno un per cento Invece il 6% Era niente Perché facevano Il 20% Di share in media E quindi Silurato il regista Rimane solo Otsuki Con Manusceme Dicevamo che faccio E si prende Si prende Takata Isao E Miyazaki Ayao E lì c'è la rivoluzione La rivoluzione totale Lupin comunista Eh sì perché Otsuki è bello libero No Otsuki è quello che guidava La Fiat 500 E lui che poi Ce la mette dentro E Miyazaki Era quello che guidava La due cavalli E ce la butta dentro Cioè sono quelle cose Che loro tra l'altro Hanno realizzato Disegnato pure per una questione Di praticità Nel senso Sono le auto che guidavano E le avevano sempre Davanti agli occhi La loro ricerca è stata Veramente minima E hanno avuto la fortuna Che erano auto proletarie Quindi questo gli ha dato Ancora più personalità Esatto Hanno abbassato Lupin Rendendolo una specie di Tra molte virgolette Robin Hood Cioè lo hanno avvicinato Di più al popolo Sì sì Ma secondo me Ha fatto successo Anche per quello Uno Perché la gente Associava secondo me Ovviamente ancora L'animazione A qualcosa di Positivo Comunque qualcosa Che ti doveva Esprimere Gioia Doveva rilassarti Ecco Quando ritornavi a casa Al lavoro Eccetera Oppure quando ti alzavi La mattina Dovevi vedere un anime Per divertirti Era ancora Intrattenimento Allo stato puro Quindi un Lupin Più cattivo Una merda Come quello che aveva Realizzato Monkey Punch Non andava bene Con l'animazione Invece Con la trasformazione Di Takahata Miyazaki Otsuka Ovviamente Lupin era diventato Un personaggio Positivo Che sì Era un po' Era un po' Particolare Però dai Era un buono E quindi Sì sì Ci stava Ci stava E poi incontrava Il popolo Come diceva Domenico Al cento per cento Cioè Loro si Medesimavano E lui Tantissimo È verissimo È verissimo Il magine che voleva Comunicare Otsuka Era proprio quella Dell'uomo del popolo Un tipo molto affabile Con una faccia Che poi si deformava Moltissimo Con questi occhioni Che spesso Si prendevano tutto il volto Il sorriso sorgnone Il mentofossetta Di Zenigata Che gli dava Una caratteristica Molto goffa E buffa Malgrado il personaggio Che invece doveva Incutere timore E poi c'è anche Il fattore Tom e Jerry Quello era già stato inserito A Monkey Punch Che lui voleva Proprio Lupin E Zenigata Come se fossero Tom e Jerry Però ecco In quella Nella prima serie animata Questa roba qui È proprio Madonna Diciamo che c'è un Sì sì È portato all'estremo È abbastanza Abbastanza E quella cosa lì Funziona sempre Funziona nelle Looney Tunes Funziona in Tom e Jerry Funziona anche In Lupin Zenigata Non c'è vero E' curiosissima Questa cosa Perché Otsuka Ha iniziato a disegnare Sin da quando era Piccolo Senza mai passare Per una scuola professionale Perché poi insomma All'epoca dove c'erano Queste Tipo di accademi Dopo guerra Quindi senza niente Non so se lui l'ha detto Però praticamente Otsuka ha cominciato A disegnare copiando Per intero Tutti gli insegnamenti Di Preston Blair Fratello di Mary Blair Per la Disney Che era un famoso animatore Dei Walt Disney Di Walt Disney Animation Studio Sono animatore Di Topolino Nell'apprendista stregone Fra l'altro Di Pinocchio Di Bambi Che poi andò a lavorare Per fare i corti Di Tex Avery Alla MGM E anche Alla Anna e Barbera E quello senza sapere Né leggere Né scrivere praticamente Perché poi l'inglese Non lo capiva Otsuka non faceva altro Che copiare E ricopiare Tutti gli insegnamenti Grafici Di Preston Blair E chissà Se magari Quelle cose Primigenie Dentro di inseguimenti Non siano rimasti Perché poi Sono tornate Anni dopo A voglia A voglia Ma penso proprio Di sì No sono tornate Anni di quell'epoca Lì era molto Influenzata Da Tex Avery Appunto Da quel tipo Di animazione Molto movimentata Che poi Vioasa Adesso porta avanti Per esempio All'estremo Sì 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 Ovviamente E tra l'altro Ose Caverna ha ragione Perché poi In realtà Sti inseguimenti Si sono riproposti In una serie Dove tra l'altro Gli italiani Hanno lavorato E dove gli italiani Hanno messo i vaini Perché si Era una serie Coprodotta Dalla Rai Dalla Rai Ovvero Il fiuto di Sherlock Holmes Perché lui curava Proprio gli inseguimenti Nel fiuto di Sherlock Holmes E questa cosa È mega figa Perché Otsuka Ha avuto a che fare Anche con i pagò E quindi Con gli italiani Questa cosa è Molto molto interessante Molto molto figa E poi vabbè Ha fatto anche Conan Quindi ragazzo del futuro Che tra l'altro Sta tornando prepotentemente Con un'edizione Clamorosa Della diet Che io ho Prodinato Prima che vada Via Come il pane Che ne stamperanno Anche io Anche io Potessi E va comprata Ha comprata Di forza E Cento Cento copie Che andranno via A cento stronzi E noi Ecco Quello è veramente Un capolavoro Che va riscoperto E si spera Che quell'edizione Serva A far riscoprire Conan Il ragazzo del futuro Perché Ma le persone Lo possono Sì esatto Lo possono rivedere Anche su Amazon Prime Perché adesso c'è E ecco Voi che ricordi avete Di queste Di queste serie Di Conan O il fiuto di Sherlock Holmes Io il fiuto di Sherlock Holmes Ricordo che avevo I libri Avevo i libri Perché all'epoca Si facevano questi libri Con dei frame E il racconto Dell'episodio Anche con il robot Mi ricordo Facevano queste stronzate Tutti i racconti Inventati Di sana pianta Da chissà quale Di casa Sì 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 Era La La Fabri Se non sbaglio Che faceva tutte queste robine qua E io ce li avevo Mamma mia Vero Vero Verissimo Della Disney Era una roba bellissima Perché Vabbè Era un personaggio Secondo me Molto ammaliante E poi a me Sono sempre piaciute Le storie di Detective Benché Io non è che abbia Tutto questo fiuto Come lui Però sono molto intuitivo Su alcune cose Quindi mi piaceva Cercare di raggiungere La soluzione Del caso Insieme a lui Ma ancora adesso Infatti io guardo sempre La signora in giallo Perché mi piace Fare queste cose Mi diverte tantissimo Era troppo bello Troppo bellino Poi anche il fatto Che da grande Capire Che era una coproduzione Rai NHK Insomma Ti fa venire un po' Quel grande spirito Nazionalista E dice Ah vabbè Abbiamo fatto una cosa buona Ogni tanto Un bel cartone Fantastica Era troppo bello Ai tempi si investiva E si vendeva anche Perché Calimero Poi fu venduto Anche all'estero Come personaggio Dopo Gigio Dopo Gigio Sono tutte cose Molto fighe Che si facevano Adesso diciamo Che l'industria italiana Un po' arranca Però insomma Un po' Diciamo che non esiste L'industria italiana Però C'è più un mercato Le Winx Le Winx Poi sono morte Basso Finite le Winx Ora torno Ho fatto la serie tv Adesso Eh sì Su Netflix Vabbè Vabbè Poi invece Vabbè Di Conan Che io mi ricordo Quelle cose bellissime Di lui Il protagonista Che cade da Un'altezza Assurda Cade giù A terra E fa così Con le cape E poi sta benissimo Cioè soltanto I piedi I piedi Madonna mia Conan faceva tante Si arrampicava Con i piedi Era una scimmia Si tirava su Era un personaggio Un tarzan Pieno di energia Un animale Era bellissimo Perché era pieno di energia E lui Chiaramente L'uomo della natura Contrapposto A industria Questo luogo Misterioso Anche orribile No? Perché è tutto pieno Di infrastrutture Un'architettura brutta Cupa La tecnologia Sempre questa dicotomia Di Miyazaki Ecologia Vero Però la cosa che Mi ha colpito Rivedendo anche di recente Conan È che Tutti noi Siamo un po' In realtà figli di Otomo Per quanto riguarda Il cyberpunk O comunque La tecnologia Che invade La società No? Quindi Tubi Macchinari Circuiti Horror vacui Praticamente No? Perché Otomo Riempiva Qualsiasi ambiente Delle sue cose La sua estetica Vedere Conan Non mi ha fatto impressione Perché È una serie Dove La tecnologia C'è Ma Poi ci sono ambienti Brulli Vuoti Silenziosi Grandi Distese Deserte Però L'elemento Tecnologico Torna Ed è un elemento Dolce Non ci sono tutti Quegli spuntoni Quell'ammasso Di circuiti Ma è tutto rotondo Tutto dolce Quella cosa lì Mi ha impressionato Perché era avantissimo Secondo me Avantissimo Rispetto ai tempi Quindi È una cosa Che va vista Anche solo Per quello Un buon documento Secondo me Per far capire Com'è cambiata Questa cosa Della distopia Della fantascienza Il macinario Distopico Sì Sì Vabbè Ma è cambiato Sicuramente Anche dentro Il cuore Di Miyazaki Che raccontava Queste cose Poi è un po' Diciamo Possiamo vedere Il meglio In Mononoke Dove La risposta Non ce l'ha Non ti sa dire Se è meglio La tecnologia O la natura Non lo sa più Nemmeno lui Magari un po' Stanco Di parlarne Anche in Nausicaa C'è molta Di questa roba Nausicaa Eh beh Princess Mononoke È figlio di Nausicaa Letteralmente Anche manga Soprattutto manga Anzi ragazzi Se potete Recuperate Il manga Di Nausicaa Perché è sottovalutatissimo Ed è una cosa Secondo me Clamorosa E Se potete Recuperatevelo In tutte le maniere Possibili Immaginabili Mi voglio collegare A una cosa Che A cui ha lavorato Otsuka Di recente Tra molte virgolette Questa cosa L'ho scoperta Di recentissimo E sono rimasto Ci sono rimasto Cosa sei per dire Eh Io Ho sempre adorato Un film di Lupin Moderno Diciamo così Ah ok Che si chiama Le profezie di Nostradamus E ho detto Ma guarda Ma guarda Che bello Come mai è così bello Sto film Ma io boh Non lo so Insomma vado a vedere E se non erro Poi non vorrei dire Una gazzata Il direttore dell'animazione Delle profezie di Nostradamus È proprio Otsuka E io E ho detto Ah ecco E che animator mi parla Il Sakkan Il Sakkan Di profezie di Nostradamus È lui Cioè veramente Una roba Clamorosa Perché Perché quel film Mi rimase molto impresso Anche da ragazzo E solo di recente Ho scoperto Questa roba qua Quindi io lo consiglio Se riuscite a trovarlo Ragazzi Guardatelo Perché è un film Moderno Di Lupin Moderno per modo di Perché credo sia Dei primi anni 2000 No 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 Anni 90 Fino ai 90 Ora controllo Ah ok Perfetto Perfetto Ok perfetto Sì Lui aveva L'aveva L'ha lavorato Un paio di film Di quel periodo lì Gli altri due Non mi ricordo Quali fossero Sono proprio Le ultime cose Che lui ha fatto Perché Lui aveva 50 anni Quando ha fatto Il castello di Cagliostro C'era molto vecchio Era già molto vecchio Il 30 Lui 31 Eh sì 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 è proprio Cioè ha visto tutta la seconda guerra mondiale Figuriamoci Mamma mia Tra l'altro Io però pensavo Dario che ti riferissi All'ultima cosa che ha fatto Spiega Che è in quest'angolo di mondo Ah minchia Sì 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 Lo sapevi Che ho visto al cinema Lui praticamente Questa cosa mi ha Mi ha molto incuriosito Perché lui praticamente Faceva parte Del comitato Per la guida turistica Volontaria Della città di cure In cui è ambientato il film E ha dato Dei materiali E delle informazioni Per il setting Ok Molto interessante E' curiosissima questa cosa Che lui a 70 anni Vi torna all'animazione Attraverso un'associazione Di volontariato Che figata Che figata Che bello No lui Lui ha veramente Dato tanto E' giusto che secondo me Se ne parli Perché Purtroppo si cita sempre Miyazaki Giustamente ci mancherebbe Giustamente Si cita Takata Anche se un po' meno Ma di Otsuka Purtroppo se ne era perso Un po' le tracce Un po' perché Era anziano Un po' perché Lavorava poco Un po' perché Comunque già all'epoca Muoveva i fili Nell'ombra Ecco A differenza invece Di Miyazaki Che si è sempre esposto Pubblicamente Anche durante le proteste Sindacali Imbracciava il megafono E urlava alle folle Quindi Erano personaggi Già diversi Ecco Poi Miyazaki Non ha mai rifiutato Loro Loro si Si conoperò Proprio in quel periodo lì Agli scioperi Della Toei Doga Chiaramente Otsuka non è che Stava lì con le bombolette Spacca tutto Come faceva Miyazaki Energico Però si 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 conoperò Durante le riunioni Sindacali Madonna santa Che storie Che storie Fantastice Ricordiamo tra l'altro Che lui ha dato Il logo Della Toei Fondamentalmente Perché lui è Il caratter designer Del film I Gattoli Stivali Si si E che tra l'altro Troviamo su ogni gadget Possibile Immaginabile Perché quello è il marchio Della Toei Dell'approvazione Da Toei Incredibile Questa roba qua Voglio Voglio chiudere Facendovi una domanda Dato che Praticamente L'unico rimasto Di quella vecchia generazione Di vecchi scureggioni Possiamo dire È Miyazaki Che sta lavorando Ancora al suo film E ovviamente Suzuki Che gli sta Con il fucile puntato Addosso E cosa vi aspettate Dal prossimo film Di Miyazaki Che cosa farà Miyazaki Io mi aspetto Suzuki li sta vedendo Morire tutti quanti Il prossimo è Miyazaki Chiaramente Questo ma Suzuki manda sempre Una notizia È morto questo È morto quello Lui non muore mai Suzuki immortale A me Suzuki Mi sa proprio Mi dà l'idea Di un Highlander Proprio Non gliene frega Un cazzo Di niente Poi anche nel documentario Il regno dei sogni Della follia Sembra proprio Inscalfibile Inscalfibile Vero Vero Sembra col sorriso in faccia È un uomo cacciaio Sì Gestisce l'emergenza Come se fosse Come Per fare il produttore Dello studio Ghibli Per forza Per gestire uno come Takato e uno come Miyazaki Se non ti fa la scorza D'acciaio Non resisti Sì Sennò se lo mangiavano Vigo Questo è vero Madonna Io non lo so Io non lo so Che cosa aspettarmi Sai Perché adesso Con le tecnologie nuove Lui mi sembrava Anche abbastanza ammorbidito Miyazaki Ha detto Ok Magari Possiamo lavorare Con la CGI Con il 3D Possiamo inserirlo dentro Anche se non è pienamente Convinto Perché lui è uno Che deve ritoccare sempre Cioè I film suoi Ci mettono una vita A uscire Perché li deve correggere A mano Uno per uno Ma che lo fai a fare Fai il regista E basta No Deve lavorare lui A mano Con il 3D Con il 3D è difficile Non lo può fare Non lo può fare Con la CGI Non può mettersi lì Si è messa la ragazzina accanto La sua eredia La ragazzina che gli sta accanto No sì sì Signor Miyazaki Sì Bellissimo Tutto fantastico E basta Poi fa tutto per conto suo Alla ginnastica Lui è contento così Ora Però secondo me È un po' più solo Un po' più triste In quello studiolo lì Poveri Almeno c'aveva Era Takata era un motore Soprattutto quando sapeva Che era lì A fare la principessa splendente Miyazaki stava tranquillo Ora non c'ha più nemmeno Takata E quindi è rimasto un po' così C'è solo Suzuki Gli manca quel contrattare Ebbè c'è Suzuki Che poi invece sta lì Granitico E non è che può far più di tanto Oltre a dire Te devi muove Non è che fa più di tanto Eh lo so Io però mi aspetto comunque Non una rinascita La rinascita c'è già stata Con Spirited Away La città incantata La rinascita Non ci sarà La chiusura era Con Princess Mononoke Non lo so Però credo che sia Un ultimo Un ultimo lascito Non a livello di Si alza il vento Però un ultimo lascito Molto buono e positivo Credo che vorrà raccontare Qualcosa di davvero Tanto tanto positivo Non agrodolce Spero una cosa positiva Non lo so Io Cioè io veramente Come Come chiusura Perfetta Mi tengo Si alza il vento Perché Ora vabbè Che era la principessa Splendente A livello artistico Probabilmente la cosa più bella Che abbia mai realizzato Studio Kipli In tutta la sua esistenza Però si alza il vento Era proprio Il lascito Di Miyazaki Cioè c'erano proprio Delle frasi Che erano collegatissime A lui C'era proprio lui Che parlava al pubblico E ci salutava Diceva arrivederci Grazie È come Toy Story 4 Cioè Non capisco Perché Ribadire l'addio O ribadire Non lo so Vediamo Non so Forse ha ragione In caverna Io infatti Dal prossimo film Mi aspetto Che non sia l'ultimo Che dopo averlo finito Si metta a lavorare Su qualcos'altro Perché Alla fine Lui è così Anche con un piede Nella fossa Continua Sono d'accordo Però con Domenico Anche perché Nelle ultime interviste L'ho visto molto positivo Addirittura ha detto Che il film del figlio È uscito bene Quindi No è veramente È felice Frate lo sto dicendo È felice Secondo me Questo film Sarà proprio Vi do gioia e speranza Ma forse si è sbagliato Si è confuso con Anno No no Ha visto un anteprima 3 più 1 Non ha mai Non ha mai detto Non ha mai detto Il mio figlio Ha fatto un buon lavoro Ha detto Le persone che hanno aiutato Il mio figlio Hanno fatto un buon lavoro Però Almeno gli è piaciuto il film Secondo me Si è sbagliato Ha visto un anteprima 3 più 1 Ha detto Bello bello Il film del mio figliolo È bello Ma si è confuso con Anno Però magari mi sbaglio Ma quello odia anche Anno Ma Te dici Uno è già Con l'aeroplanini Ha 70 mila anni Insieme Anno Te lo ricordi Quello spezzone Nel documentario In cui gli fa dire Più e più volte Arigato E poi gli dice Sporco straniero Tu che cavolo sei? Con che barca Si è arrivato? Beh ma lo faceva Prendiamo le distanze Doveva incitare Che doveva dare quella carica giusta Per fargli dire bene la frase Ma poi in quel documentario Quando Suzuki gli propone Anno Cioè Miyazaki dice No no Anno Non lo possiamo fare Anno Poi come al solito Miyazaki fa Anno e dici eh Anno Non c'è mai verso Non si ferma mai Comunque Un grande Un grande E poi ecco l'intervista Ecco l'intervista Della spazzatura Facciamo data che siamo qua Parliamo di Miyazaki Quella è un bijou Che è stata travisata In tutte le sarts Per l'intervista Perché Miyazaki Con il suo fare giapponese Ha detto una cosa Per favore ragazzi Non mi rompete oglioni Sono qui che sto buttando La spazzatura Non mi rompete il cazzo Ma cosa vogliene freghi A Miyazaki di Demoslayer Ma cosa La gente ha Arrosicato Arrosicato Ma cosa gliene frega Se Demoslayer Ha incassato più Della città incantata Non gliene può fregare di meno Cioè lui gli stava dicendo In maniera educata Voglio buttare la spazzatura Ti levi da oglioni Almeno questa è l'interpretazione Che gli ho dato io Poi ditemelo Allora Allora Io da napoletano Ho pensato che lui Nei denti volesse dire Caro giornalista Sai che devi fare Tu devi andare a buttare La monnezza Solo la monnezza Devi alzare Perché non si pone a niente Manca a fare le interviste Va a buttare la monnezza Vai vai Può darsi Bella Anche questa visione Non è male È più violenta Però ci sta A me A me è ricordato Un sacco Quel video Di quella scrittrice Che ha vinto Il Nobel Che tipo gli va Un giornalista vicino Gli dice Lei lo sa che ha vinto il Nobel Lei gli fa Va bene E mi aiuta a portare La spesa in casa Grazie Così l'ho visto È vero Un po' così È come Bob Dylan Sì sì Uguale Alla stessa Anche perché lui Alla fine Dell'animazione Ha smesso di interessarsi Dagli anni 80 Praticamente Anche prima Probabilmente Sì Lui pensa a fare A comunicare Quello che vuole Dire lui In quel momento Ora domani C'è Raffaelli Intervistato Viene qua A chiacchierare Di animazione Lui l'ha intervistato Quindi gli chiederò Un po' di roba E però lui Vabbè Da una piccola anticipazione Mi raccontò una volta Che lui Cioè Prova Poche volte Nella vita Delle gioie Lui Gli chiese Ma come mai Tutta questa poesia Tutta questa tranquillità Bellezza Nei suoi film Cos'è che Le dà tanta energia Positiva E Miyazaki Disse ma veramente Io zero Poi ci pensa un po' Perché ha visto Che Raffaelli Ci è rimasto male Sale su Prende un libro Italiano Di aerei italiani Con tutti degli appunti Per le traduzioni Per le traduzioni Giapponese Fa ecco Quando mi fanno Questi regali Con i libri Cioè i libri Con gli aerei Eccetera Io sono contento Ecco questi sono Gli unici momenti In cui io sono felice Quando mi regalano I libri Ho l'aeri Va bene Miyazaki Se sei contento Te sono contento Anch'io Vabbè comunque Ma secondo me Secondo me Come con l'intervistatore Era per dire Raffaele Sei venuto qua A fare l'intervista E non hai portato Manco un regalo Che sei venuto a fare Sempre con la visione Napoletana della cosa Ovviamente Ovviamente Ti ha insegnato A te l'educazione Buono ragazzi Grazie mille Di essere passati È stata È stata Grazie a te Molto carina Molto carina Vi abbraccio forte E speriamo di Non ritrovarci Quando muore qualcuno Di importante Ma speriamo di ritrovarci E basta Perché sennò Non ha senso Dai Quando vuoi Fate a modo Ragazzacchi Grazie mille Ciao Un abbraccio Buonasera Ciao Dario Buona continuazione Buonasera Ciao 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 Ciao